Due giorni, giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre, alla Mole Vambitelliana di Ancona, per fare il punto della situazione su due patologie che assorbiranno gran parte delle risorse sanitarie nel prossimo millennio, obesità e cancro. È su questi argomenti che numerosi ed importanti relatori si sono confrontati in occasione del ventesimo Corso Nazionale di Nutrizione Clinica, organizzato dalla S.O.D., ovvero Equipe Medica Specialistica, di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, con la direzione scientifica affidata al professor Albano Nicolai. Professore Albano Nicolai, quali sono le aree di discussione? Le aree di discussione sono la grande obesità e la necessità di nutrire il paziente durante una neoplasia, cioè combattere la malnutrizione durante il cancro. La nutrizione clinica in vari ambiti? Sì, la nutrizione clinica nell'ambito dell'obesità, delle malattie associate all'obesità, come il diabete, come le dislipidemie, combattere la grande obesità con interventi chirurgici, quell'obesità che ha un BMI superiore a 40, per intenderci 50-60 kg di sovrappeso, dove la dieta non ha risposto, dove il farmaco non ha risposto, si candida il paziente a chirurgia bariatrica, quella chirurgia che sta prendendo sempre più campo e presenta un numero di interventi impressionante, troppo elevato per la maggior parte degli esperti, quindi troppi sono i candidati alla chirurgia bariatrica, che nel tempo non sempre risponde alle aspettative iniziali. Quale può essere l'alternativa? L'alternativa è quella di ricostruire uno stile di vita, uno stile di vita ricostruirlo con un'alimentazione adeguata, personalizzata, con l'aiuto di alcuni farmaci che ci stanno dando una mano. Eravamo orfani di una terapia farmacologica dell'obesità fino a qualche anno fa. Oggi abbiamo due molecole che rispondono molto bene, come la liraglutide e il bupropione. Sono due molecole che agiscono a livello centrale e a livello periferico, riducendo il senso di fame o anticipando il senso di stasietà. Quindi diciamo che dobbiamo lavorare più che altro sull'aspetto clinico e psicologico del paziente per convincerlo ad adottare un nuovo stile di vita. Qualora non riusciamo in questo intento, qualora falliamo, allora entra in gioco nelle grandi obesità, quelle grandi obesità che ho detto prima, la chirurgia bariatrica, con interventi più o meno invalidanti, ma sono interventi che cambiano l'anatomia topografica intestinale. Sono quegli interventi che nel tempo, se non sono seguiti da un follow-up adeguato, non danno quei risultati attesi. Che valore ha la prevenzione? La prevenzione è tutto. La prevenzione è educare il bambino, l'adolescente, l'adulto, il neoadulto, ha un stile di vita adeguato che possa garantire, mantenere il peso corporeo ideale, quel peso corporeo ideale che può andare dall'altezza del soggetto, meno 10, faccio un esempio, una persona che è alta un 80 deve pesare 70-72 kg in relazione alla massa muscolo-scheletrica, se va oltre quel peso, oltre i 72-73 kg, entriamo in una fascia di sovrappeso e oltre i 20 kg in una fascia di franca obesità. Dunque, il fenomeno obesità è fuori controllo, per mancanza o insufficienza di adeguati programmi di prevenzione. Da alcuni anni però sono a disposizione farmaci che agiscono inducendo sazietà e posticipando la sensazione di fame, quindi sono un valido aiuto per combattere il tessuto adiposo in eccesso. Ovviamente il farmaco deve rientrare nel programma multidisciplinare associato a dieta e attività fisica. Intanto, la patologia neoplastica, insieme a quella cardiovascolare, sono le principali cause di morte. L'alimentazione è responsabile di circa un terzo delle neoplasie. Ne abbiamo parlato con Marina Taus, dirigente medico responsabile nutrizione artificiale ospedaliere e domiciliare, ospedali riuniti di Ancona. Per il paziente oncologico abbiamo formulato un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, la nostra equip di dietetica e nutrizione clinica e l'equip dell'oncologia. Nell'ambito di questo percorso, appunto, il paziente può arrivare all'ambulatorio dell'oncologia o ricovero o in day hospital e riceverà simultaneamente una valutazione del suo stato nutrizionale affinché, qualora ci siano problemi dal punto di vista nutrizionale, cioè un'insufficiente alimentazione, ha bisogno di modificare la sua alimentazione, si evince delle difficoltà, che si chiama appunto disfagia, e quindi noi interveniamo tempestivamente, sia noi che medici dietologi che le dietiste del mio reparto, proprio per andare incontro alle esigenze nutrizionali del paziente e perché? Perché abbiamo visto che è fondamentale correggere un eventuale rischio di malnutrizione o malnutrizione franca che purtroppo tuttora è presente e per permettere al paziente di stare meglio dal punto di vista clinico-nutrizionale ma anche dal punto di vista della qualità di vita e permettere al paziente di poter continuare, completare i cicli di chemio e di radioterapia anche. E quindi ecco, è importante che questo lavoro poi che abbiamo studiato insieme e che abbiamo pubblicato, cioè questo PDTA, per il paziente oncologico, lo stato nutrizionale del paziente oncologico, vorremmo estenderlo proprio a livello regionale affinché ci sia questo intervento integrato, multidisciplinare, multiprofessionale e ci sia un'equità di cure in tutta la regione da parte appunto di tutti i pazienti della regione che possano usufruire dello stesso qualità di assistenza. Qualità e quantità della vita del paziente, a questo punto diventa fondamentale questo concetto? Abbiamo visto effettivamente che correggendo, intervenendo tempestivamente sullo stato nutrizionale del paziente questo permette anche una migliore prognosi e quindi a maggior ragione il nostro intervento deve essere mirato, deve essere tempestivo come hanno detto anche i miei colleghi e altri relatori nell'ambito del congresso proprio perché in questo modo riusciamo anche ad avere un effetto significativo, positivo sulla prognosi del paziente. Rispetto al paziente obeso, qual è l'approccio? Ci sono delle novità dal punto di vista terapeutico, farmacologico? Allora, per quel che riguarda l'obesità sicuramente la dieta è la premessa, la terapia fondamentale che deve essere alla base di ogni approccio. La dieta, l'attività fisica e quindi il cambiamento dello stile di vita. Le diete di cui si parlerà ultimamente nell'ambito di questo congresso più, diciamo, al momento di interesse in diversi ambiti, non solo nell'ambito dell'obesità essenziale ma anche della sindrome metabolica, dei pazienti che hanno delle complicanze associate, sono le famose diete chetogeniche. Chetogeniche, cioè a basso contenuto di carboidrati, soprattutto carboidrati semplici. In questo modo, diciamo, viene stimolata la lipolisi, cioè la distruzione delle cellule adipose con produzione di corpi chetonici e quindi stimolando la lipolisi si scende in parte di peso per questo effetto, dovuto appunto alla dieta, ma anche perché i corpi chetonici agiscono a livello del centro della sazietà determinando, inducendo una sazietà più precoce. Quindi sono diete efficaci perché con la sola alimentazione noi riusciamo anche a modificare le diverse sfere dell'appetito e conferiscono una sazietà anche per un periodo più duraturo, più lungo, quindi spostano, diciamo, il pasto successivo. E a fianco alla dieta, alle diete chetogeniche, abbiamo anche l'utilizzo delle molecole come la liraglutide, che è una molecola che si è visto che ha un'efficacia terapeutica non solo nel ridurre il calo ponderale e di questo parlerò, ma anche nel ridurre tutti i parametri associati all'obesità, le complicanze associate all'obesità come l'ipertensione, come le dislipidemie, come il rischio di apnee notturne nel paziente obeso. Ricordiamo che rappresentano una complicanza molto importante da tenere sott'occhio e che vanno studiate, che invece purtroppo non tutti indagano questo aspetto. E quindi la liraglutide, ne parleremo perché è veramente molto importante, come farmaco e anche nuovi interventi, nuove molecole che sono simili alla liraglutide. Si tratta della semaglutide, che è una molecola che a differenza della liraglutide conserva in maniera molto significativi l'efficacia terapeutica della liraglutide, però permette addirittura una somministrazione settimanale, quindi una volta alla settimana, e quindi questo sicuramente impatterà in maniera molto significativa anche sulla qualità di vita del paziente. Tra gli argomenti di questo corso anche il digiuno modificato, di cui abbiamo parlato con la dottoressa Nadia Campelli, dirigente medico S.O.D. Dietetica e Nutrizione Ospedali Riuniti di Ancona. C'è un interesse crescente verso il digiuno. È una pratica che sta appunto avendo numerose evidenze dal punto di vista scientifico e quindi è necessario anche nel prossimo futuro declinarlo anche per i pazienti con sindrome metabolica e con obesità, perché potrebbe essere un validissimo aiuto per favorire proprio anche le abitudini dietetiche, ma semplicemente suggerendo ai pazienti di restringere la durata dell'alimentazione. Quindi nell'arco della giornata preferire le ore diurne già sembra essere un'ottima base per migliorare i fattori di rischio cardiometabolici. Per cui serviranno evidenze future, ma già è un buon inizio. Per digiuno si intende l'assenza di cibo o evitare proprio i pasti? Il digiuno è declinato in tantissime modi e in tantissime possibilità. Può essere solo ad acqua di breve durata, periodico, due giorni, restrizione calorica a settimana per diversi cicli mensili. Può essere una restrizione calorica, c'è una riduzione cronica, quindi ci sono tantissimi aspetti che vengono valutati, ma c'è anche un nuovo modello che è di alimentazione a tempo limitato, cioè quello che prevede l'assunzione in determinate ore della giornata, cioè quelle diurne, entro le 10-12 ore possibilmente, lasciando poi il digiuno notturno. Quindi tanti aspetti. Che vanno sicuramente concordati con il medico? Concordati tra appunto medico e paziente, ma la cosa che è ancora precedente a questa, validati con ulteriori studi, con una numerosità dei campioni e con studi di controllo insomma molto più grandi rispetto a quelli già presenti e già disponibili. Diciamo che ci sono moltissimi spunti, nuove evidenze che però andranno nei prossimi anni approfondite e validate. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.